essere lui ama essere un padre lui ama essere un padre io sono io sono io sono insegnante di italiano io sono insegnante di italiano io sono io sono io sono stanca questa mattina io sono stanca questa mattina tu sei tu sei oggi tu sei malato tu sei tu sei tu sei una persona tranquilla lei è lei è lei è sicuro che sia la risposta giusta? lui è lui è lui è felice di ritornare a scuola lei è lei è lei è coraggiosa lei è coraggiosa noi siamo noi siamo noi siamo un po' persi noi siamo noi siamo noi siamo pronti per partire noi siamo noi siamo pronti per partire noi siamo pronti per partire voi siete voi siete voi siete molto belle voi siete Voi siete... voi siete... voi siete... voi siete molto orgogliosi del vostro lavoro. Loro sono... loro sono... loro sono ancora innamorati. Loro sono... loro sono... loro sono... loro sono al parco. Loro sono... loro sono al parco. Loro sono... 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 Loro sono...